Ah beh, ma tocca dirlo, carissima mia Fujifilm, datti una regolata. Ma si possono presentare una valanga di novità? Il 23 gennaio, se li siete persi, è la penultima edizione delle bocce news che trovate qui sopra. E oggi, il 4 febbraio, buttare giù un'altra valanga di news e, alla fine, lo vedremo insieme e dire che il 26 febbraio ci sarà un'altra novità. Ma dirle tutti insieme no? Beh, comunque vi do per l'appunto il benvenuto in questa edizione speciale e notturna, sto registrando che sono le 22.34, delle bocce news del 4 febbraio 2020. Andiamo un po' a vedere cosa ha combinato per l'appunto Fujifilm. Cosa è successo? Poche ore fa, alle 9 ore italiane, c'è stato l'X Summit, questa conferenza che si è tenuta a Londra, in cui la Fujifilm ha aggiunto altra carne sul fuoco, tanta, tantissima. E iniziamo dal grande formato, ma c'è qualcosa di cui abbiamo già parlato, ma viene ancora più definito questo GF 80 mm apertura 1.7. Sì, questa vera bomba, destinata al medio formato, alla super full frame, come la chiamano in maniera molto onesta, quella di Fujifilm, con una serie di vantaggi, comunque dimensioni più compatte rispetto al 110 f2, un utilizzo quindi più adatto all'esterno, e effettivamente hanno anche messo nelle mani di alcuni X photographer presenti questo oggettino e si vede evidenziato con la freccia che è piccolo, ma non così tanto piccolo. Ma è grande, anzi enorme, l'altra notizia che riguarda sempre il medio formato. Spero aver capito tutto bene perché era in inglese non sottitolato, ma sembra che stia arrivando un nuovo firmware, sempre per il grande formato, semplicemente per la GFX 100, se non sapete cos'è la GFX 100 ve lo spiego nel video qui sopra, ed è bene sì, arriverà a qualcosa come 400 megapixel utilizzando la tecnica del pixel shifting, quindi andando a spostare il sensore, che appunto è un sensore stabilizzato, riuscirà a creare, magari in situazioni statiche, immagini da sì ragazzi. 400 megapixel, in cui potremmo ingrandire, ingrandire, ingrandire e chi ne ha più ne metta. Passando ai formati più piccini viene confermata un'altra notizia, l'XF 50 mm coapertura 1.0 uscirà quest'anno sì, nel 2020, e ragazzi questo è il secondo record di questo bocci news, perché già i 400 megapixel sono un record, davvero. E il secondo record è questo, infatti c'è scritto World Fastest Lens con autofocus. Sì, esistono ottiche più luminosi, tipo, non lo so, il Noctilux di Leica o il Noctilux di Nikon, appena uscito per le fotocamere con Bayonetta Z, ma questo ha l'autofocus, e diranno, vabbè, è solo sviluppo. No, no, non è solo sviluppo, è realtà. Infatti l'hanno messo in mano a XPhotographer e hanno fatto anche delle riprese nel pubblico. E vedete, le immagini sono quelle prese dall'uscita HDMI, e guardatevi, iniziata dalla freccia, sì, proprio, apertura 1.0. Hanno fatto una serie di messe a fuoco e stra-stra funziona. E però, 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 certo che è un mock-up, quindi siamo a livello di prototipo, non è ancora il prodotto definitivo, ma, secondo me, qualche problema al trattamento antiriflesso c'è. Guardate un po', evidenziate dalla freccia, questo flare gigantesco, questi due occhioni di robot in basso, sì, dall'altra parte dell'XPhotographer c'erano i proiettori, e quindi luci belle dirette, belle potenti, però un flare altrettanto bello evidente, quindi sarà da metterlo a prova, però hanno sicuramente sbagliato a metterlo in mostra in questo modo, con delle luci così puntate contro. Ma, andiamo avanti, e qui vi mostro che comunque questo XF50 apertura 1.0 sembra quasi più grande dell'80 mm 1.7 per medio formato. Ma, 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 eh sì, avete visto la copertina, la X100 e la sua evoluzione. L'X100 che arriva alla sua quinta evoluzione. Se vi siete sempre, sempre chiesti, se vi siete sempre, sempre, si capisce che è tardi, ok, mi riprendo. Allora, se vi siete sempre chiesti quelle letterine che sono, la S è second, la seconda uscita, la T è per third, la terza uscita, la F è per fourth, la quarta uscita. Il problema è che la quinta uscita sarebbe stata sempre F, fifth, perdonatemi l'inglese. Quindi sono passati a romani, invece che metterlo in inglese, iniziale appunto di primo, secondo, terzo, quarto e quinto, hanno preso il V. Ed eccola qui, la Fujifilm X100V. Che se vogliamo è una notizia un po' debolina, se confrontato a tutto quello che abbiamo detto prima, i 400 megapixel, il 50, apertura 1 con autofocus. Ma comunque è una macchina profondamente rinnovata. Hanno detto che hanno mantenuto alcune cose sempre costanti nel tempo, come ad esempio il 23 mm con apertura F2. Che rimane un 23 mm con apertura F2, ma guardate qui nel disegno dello schema, è stato completamente riprogettato. Questo permette, e queste immagini davvero sono notevoli, di ottenere un incremento evidente in quello in cui c'è la nitidezza, il contrasto a sinistra X100F, a destra X100V, insomma, davvero incredibili risultati. E ha stato rinnovato il mirino, sempre di tipo ibrido, con maggiore contrasto e con maggiore frame rate, arriva ai 100 frame per secondo. Ma la cosa più interessante è che dietro, sì, perfettamente piatto, perfettamente pulito, eppure ha trovato spazio un display parzialmente orientabile. Carissime amiche Fujifilm, abbiamo visto con la X-T200 che si riesce a fare un display ben orientabile, perché non l'ha messa anche qui? Mannaggia! Ma andiamo avanti. È stata aggiunta una completa tropicalizzazione, è stato ottimizzato l'utilizzo delle ghiere. Qui spero di aver capito bene l'inglese, vi ricordo che ho le mie difficoltà, in pratica, su un modello precedente, per azionarlo dovevi tirare su e girare mentre lo stavi sollevando. Qui lo tiri su, lui rimane sollevato, come se fosse il pomello di un orologio, lo puoi ruotare e poi riabbassare. Questo deve passare dalle varie impostazioni, delle sensibilità e tempi. Questo tizio qui, infine, è il designer, quindi quello che cura le linee, sia della X100, ma anche della serie GFX. Io avrei detto, ma cuore mio, quando hai fatto la 50R, che c'avevi in testa che sembra un mattone da delizia? Vabbè, passiamo avanti. E lui ha spiegato una delle grandi novità, che forse non tutti ameranno, che il D-pad posteriore è stato eliminato, ma questo serve per rendere le linee più pulite, più essenziali, e eliminare tutto quello che non è, appunto, utile e indispensabile. Ma è importante la presenza del joystick portato di pollice, quindi comunque l'interazione, specialmente per la scelta del punto di messa a fuoco, rimane ottima. Arriviamo al punto dolente. Eh sì, si sanno i prezzi, si sa l'uscita, è dolente per questo. Se noi vediamo il prezzo americano, sono 1399 dollari. Mi è arrivata già le mail dalla Fujifilm Italia, prezzo italiano 1529 euro. E noi ce la fanno pagare cara, ma comunque disponibile a fine febbraio, quindi a brevissimo, la curazione grigia, quella nera poco dopo, ma comunque vicine. Ma vi dicevo all'inizio che, insomma, la Fujifilm si dovrebbe dare una regolata in questi annunci continui, e insomma, importanti. Infatti, alla fine di tutta la live di questo X-Summit, compare uno dei pezzi grossi di Fujifilm, e cosa ci dice? È sì che tra soltanto 21 giorni, una manciata di ore, verrà annunciata anche lei. Sì, almeno il nome è ufficiale, ma possiamo immaginarci quello che sarà, la nuova Ammiraglia, vedremo se solo in ambito fotografico o anche in ambito video, la X-T4 arriverà a fine mese, per l'appunto, il 26 febbraio. E quindi, ragazzi, Fujifilm vuole fare, secondo me, è davvero la voce rossa sul mercato, perché nell'arco di un mese, novità, novità, record, record. Ditemi nei commenti qual è la cosa che vi stuzzica di più, e ovviamente sappiamo già che un'edizione delle Bocci News, bene o male, il 26 febbraio ci sarà. Ciao a tutti ragazzi, e adesso, tanto montaggio e tanta pubblicazione. Quando vedrete questo video, secondo me sarà a mezzanotte. Ciao, ciao. Ciao.